story time evoluzione radio amiche e amici di Radio Canale Italia benvenuti io sono Alessandro Fusella e oggi qui con me negli studi di story time a Bologna è venuta a trovarmi Silvia Degani ciao Silvia come stai? ciao Alessandro grazie molto bene benvenuta a story time allora Silvia da dove incominciamo perché tu sei un vulcano allora oggi ti presenti qui come videomaker ma non solo qual è stato il tuo percorso? allora il mio percorso principalmente è stato un percorso umanistico e musicale infatti tutto è nato decisamente dalla musica perché ancora quando ero ragazzina studiavo musica e suonavo in qualche gruppo avevo la passione non solo della musica ma anche della fotografia e dell'arte è nata l'esigenza con alcuni amici di fare qualche ripresa video durante le nostre esecuzioni e ho deciso di dilettarmi io in questa pratica e da lì è nata la mia passione e che poi ho portato avanti prima in modo amatoriale poi nel tempo ho iniziato anche a studiare e a fare corsi e a specializzarmi e a farlo diventare quello che è adesso il mio mestiere complimenti complimenti grazie come si chiamava il gruppo? il gruppo The Substitute era un tributo agli VU ah ok vabbè non immagino i video come potevano essere se i VU fanno musica bella così energica i video com'erano? eh anche quelli abbastanza energici brava brava Silvia ok va bene cosa ti piace rappresentarne i tuoi video? diciamo che negli anni ho cercato di specializzarmi e ho trovato eh particolarmente affine a quelle che sono le tematiche principalmente della memoria quindi della memoria storica eh come eh fatto importante eh soprattutto per il futuro insomma non scordarci del passato per il nostro presente e anche per eh il nostro futuro e poi anche le tematiche ambientali eh e le tematiche di valorizzazione del territorio in particolare delle zone dove abito io che sono di Reggio Emilia e della provincia ah ok ok allora documentali eh documentari legati alla memoria e viaggi della memoria che cosa sono cosa intendi? sì eh diciamo che ehm negli anni eh si sono specializzati alcuni centri eh quali storico eh che sono istituti di storia locale eh per ehm fare formazione tra gli studenti tra le giovani generazioni eh rispetto a quella che è la memoria storica e della propria comunità che poi però riguarda eh diciamo tutta tutta l'Italia tutto eh il paese insomma non riguarda solo la la propria comunità e la propria provincia e in questo senso io ho seguito questi viaggi della memoria che hanno portato poi innumerevoli studenti a conoscere eh tragedie del passato come l'olocausto quindi siamo andati in campi di concentramento di sterminio da Auschwitz e e comunque tutte fatti legati alla storia quindi da fatti di questo di queste grandi dimensioni a e c di anche Luca e Locali durante la seconda guerra mondiale proprio per evitare che si dimentichi una parte di storia che in realtà è stata fondamentale che ha costruito poi le basi anche del nostro presente assolutamente assolutamente complimenti complimenti Silvia invece la valorizzazione del territorio di che cosa si tratta? sì questa diciamo affinità è iniziata a nascere collaborando con molta con la pubblica amministrazione e con molti comuni di reggio e della provincia dove c'è una sensibilità abbastanza elevata rispetto alla tematica ambientale alla valorizzazione di quelli che sono il proprio territorio sia a livello paesaggistico ma anche di eccellenze tipiche di prodotti tipici e ho iniziato a scoprirne un po' tanti risvolti tanti aspetti mi sono appassionata per cui ho cercato di seguire di proporre anche diciamo nel mio curriculum questi aspetti ok ok complimenti ancora una volta Silvia io so però che non sei solo una fotografa medio maker ma hai scritto anche un libro sì il mio primo libro in collaborazione con una guida ambientale escursionistica di reggio daniele canossini ok questo è un libro che si intitola escursionismo a reggio emilia storie itinerari dalla a alla z perché abbiamo scritto questo libro e daniele canossini in realtà è la sua ventesima guida io gli ho proposto di fare una guida un po' diversa dove ad ogni itinerario era associato un racconto autobiografico in cammino perché appunto in questa mia evoluzione rispetto alle tematiche ambientali del territorio e ho comunque iniziato a frequentare come escursionista e il nostro appennino la collina e ho iniziato ad amarne tanti aspetti e frequentandolo anche con amici o con gruppi escursionistici ho voluto ricordare e suggestioni le storie si storie e suggestioni dall'ala z perché ogni racconto riporta il titolo rappresentante la lettera dell'alfabeto quindi a come anello z come z e per ogni itinerario ogni racconto daniele canossini descrive un itinerario con cartina dettagliata focus e poi ci sono fotografie c'è qualche mio acquarello insomma diciamo che una guida tutto tondo che può accontentare sia chi vuole fare dell'escursione chi anche apprezza la parte narrativa e letteraria complimenti complimenti silvia cosa non fai allora che cosa la musica va continua a suonare immagino no non la suona più l'ascolto però la musica diciamo che è diventata un altro leitmotiv del mio lavoro perché cura molto la scelta delle colonne sonore dei video dei documentari e quindi diciamo che non l'ho abbandonata e ha un aspetto diverso nel mio lavoro e nella mia vita ok ok allora come formatrice che lezioni svolgi sì ho iniziato da un anno a fare formazione in modo trasversale e in diverse età quindi dalle dalle medie con percorsi extrascolastici in cui spiego come realizzare un video degli studenti che hanno dimistichezza solo con i cellulari però inseriti in un percorso in cui si va poi a costruire un video con delle interviste legata a una tematica che è importante per la scuola in quel momento e che magari i ragazzi non conoscono e quindi diventa un duplice strumento quello che bello poi ho fatto formazione invece proprio parenti di formazione insegnando tecniche di produzione audio video ad adulti in corsi professionali e in questo senso è stato diciamo quello che mi viene soprattutto richiesto la parte tecnica e di raccontare la mia esperienza come avviene tutto il processo produttivo dalla richiesta del cliente all'ideazione alla realizzazione poi la distribuzione che bello che bello complimenti silvia ma bene dai progetti futuri e progetti futuri diciamo che sono legati a quello di cui abbiamo parlato fino adesso quindi alcuni video documentari di valorizzazione del territorio sono già un po in cantiere e poi soprattutto dedicarmi alla formazione perché è un argomento che mi interessa molto in questo momento poter donare diciamo ai studenti più giovani quello che ho imparato negli anni di esperienza e poi sì provare a continuare con la scrittura il famoso video orizzontale o verticale quando ci mettiamo col cellulare in mano io le faccio in orizzontale anche io le faccio in orizzontale e ci tengo che comunque gli studenti continuino a imparare anche in orizzontale ma con lo smartphone lo fai in orizzontale anche tu? sì ecco vedi bene siamo della vecchia scuola si deve farlo l'ho capito dai va bene allora Silvia Degani videomaker facebook e instagram il tuo sito bellissimo con tutti i tuoi premi che hai ricevuto sia per il video che per la letteratura silviadegani.it va bene Silvia io ti ringrazio di essere passata qui a Storytime grazie a voi in bocca al lupo ciao ad Alessandro storytime evoluzione radio